C'è 105 e mi casa, metti a palla 105 e fai sentire che ci sei, tu ci sei, c'è 105 e mi casa La colonna sonora così bella e importante la dobbiamo a Massimo Cotto, cioè i Pink Floyd li dobbiamo a te Capito, e adesso smetterà il godimento dopo aver sentito la mia voce Ciao Massimo, è un piacere, Massimo Cotto giornalista musicale e voce della nostra sorellina Virgin Prima fuori onda dicevo quanti libri hai scritto? Perché è una vita che vedo i tuoi libri in giro, ma una vita da sempre Eh ma perché sono vecchio, infatti guarda mi sto facendo crescere la barba per avere più carisma e sintomatico mistero Sì ho scritto più di 60 ma non li ho letti tutti, più di 60, hai scritto tutta la vita che scrivi Sì infatti guarda che scrivere, ma poi tu lo sai perché hai scritto anche tu Sì ma io sono prestato, tu sei vero No io sono vecchio, nel senso che scrivere è una di quelle cose magiche perché è esattamente come c'è l'adrenalina della luce rossa che si accende quando sei in radio Quando hai la pagina bianca davanti e che si riempie di parole, che poi diventano frasi, che poi diventano pagine, che poi diventano libri Hai una forma di godimento, ti ripeto tu lo sai, che è quasi fisica Eh sì 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 ma cavolo 60 sono un numero impressionante Senti questo qui è dedicato, è uscito dieci giorni fa, si chiama Rock Live e il titolo dice già tutto Cioè protagonisti di questo libro sono i concerti, la musica dal vivo Sì più belli della mia vita, diciamo degli ultimi 40 anni Quindi andando indietro nel tempo il concerto di Firenze o di Bologna del 79 di Patty Smith L'ultimo che ha fatto Poneone di Poi Andare Via, poi il concerto di Central Park, Sam Reagan Fankel oppure non so qualsiasi altro Hai viaggiato tanto per vedere concerti? Ho viaggiato tantissimo, ho fatto un calcolo che ho visto più di 1500 concerti e credo che quello sia il luogo dove tu davvero capisci che forse questo genere di musica non muore Perché si rigenera continuamente, un po' io dico che è un po' la sentenza di Cassazione perché è giudizio proprio inappellabile E capisci davvero se c'è plastica o se c'è stoffa E certo, sì sì, il live è proprio questa cosa qua A me capita, condivido con te questo mio pensiero Vado molto ai concerti, continuo a andare molto ai concerti nonostante non sia più giovanissimo E ricordo sempre di quando da ragazzino facevo la fila fuori, mi mettevo lì le ore prima Adesso che ci vado quasi sempre con un pass mi sento un privilegiato enorme Ma continuo a godere e questa cosa qui anche per me è una sentenza Cioè è come dire continuerò a fare questo mestiere fino a quando per andare a un concerto sento ancora un po' di adrenalina prima E poi mentre sono lì godo Ti succede? E poi guarda, assolutamente sì E poi tu hai detto una cosa bellissima proprio citando il momento in cui ad esempio si aprono i cancelli Quando entra la gente, quello è un concerto nel concerto Quando vedi che nonostante tutto persone di tutte le generazioni corrono come dei pazzi ad esempio a Imolo Oppure nei grandi raduni per avere un posto in prima fila La mia illusione o come dire la mia Voglio credere che non stiano semplicemente cercando un posto in prima fila a un concerto Ma anche un posto in prima fila al banchetto degli dèi Perché il concerto è anche questo Perché è così Hai detto che ne hai visti più di 1500 Il primo spesso è un concerto dove qualcuno ti ha anche accompagnato Quindi magari non è poi del tuo artista preferito Tu te lo ricordi? Il primo concerto in assoluto sai che non lo so Potrei inventarmi qualche cosa di effetto Tipo ad esempio io ho due orologi Mi chiedono sempre perché io non riesco mai a dare una risposta intelligente E trovatela Da scrittore devi scrivertela Proprio anche di quelli patentati Quale artista pensavi avesse fatto un disco sì carino ma molto frutto Dello studio, del fonico, del tecnico da studio E poi invece live ti ha fatto cadere la faccia Gli ultimi Muse Gli ultimi Muse L'ultimo disco dei Muse mi ha non esaltato Non immaginavo Li avevo già visti qualche anno fa a San Siro Non immaginavo che potesse essere così potente lo spettacolo Perché la coreografia è al servizio della potenza espressiva del gruppo A volte capitano queste cose qui Così come va detto che capita anche il contrario Cioè è un bel disco che poi invece dal vivo scopri non essere in grado Una volta penso a John Hammond che è stato colui che ha scoperto da Bob Dylan a Springsteen a Billy Holiday Chiunque, Bessie Smith Quando era tratto da qualcuno Prima di metterlo sotto contratto Prenotava una data in un locale Anche soltanto a porte chiuse Voleva vedere come si muoveva sul palco Ecco quest'oggi un po' si va smarrendo Perché si pensa che in studio sia possibile riprodurre tutto C'è la possibilità di correggere anche le stonature Tutte le varie cose Che quindi il palco sia il luogo dove tu puoi fare una rappresentazione No, il palco è il luogo dove c'è la vita vera Comunque hai citato una band di Muse Che la prima volta che ho visto live Ci sono rimasto male Cioè ci sono proprio rimasto male per quanto bravi fossero E poi sono in tre e sembrano in trecento Bravo, sono tre E non capisci da dove esca quel muro di suono Passo, chitarra, batteria No, sono straordinari Hai fatto uscire un libro dieci giorni fa Forse il tuo sessantesimo Forse il sessantadue Forse il cinquantottesimo Forse l'ultimo Magari si muore presto Va a sapere Ma ne starai già scrivendo un altro Sì, però Io non lo so Chiamiamo il Decamerock Ma vabbè Mi piacciono i titoli Questo si chiama Rock Live Non vi potete sbagliare Se considerate anche voi Che la musica live sia fondamentale Per scoprire una band O per testare lo stato di salute di una band È il libro giusto Massimo Cotto vi racconta una serie di concerti Piuttosto importanti Quelli storici Ma se ti dovessi chiedere Visto che parlavo di musica live Per testare lo stato di salute I Rolling Stones Sono ancora una band Che ha senso vedere live I Rolling Stones Sono uno di quei gruppi Che forse bisogna andare a vedere Per capire che finito loro Finirà un certo modo di intendere il rock Così come quando muoiono i grandi Sono morti i grandi jazzisti Non è morto il jazz Ma un certo modo di intenderli Perché oggi quelle star lì In qualche modo non esistono più Forse non esiste più Il nuovo David Bowie Il nuovo Lou Reed Quindi i nuovi Stones Quindi si va Per coltivare questa illusione Che loro possono adorare in eterno Visto che parlavo prima della mia morte Di sicuro io morirò prima di Keith Richards Ma tutti Tutti no Di sicuro moriremo tutti prima Quale concerto andreste a rivedere domani? Andrei a rivedere tutti quei concerti Di cui non sono riuscito a capire subito In tempo reale la validità Cioè ad esempio Il valore simbolico del concerto di Bob Marley Che significava la fine di un'era San Siro e anche Torino La fine di un'era Perché voleva dire Che tutto il periodo degli autoriduttori Delle contestazioni Dell'Italia che veniva messa in margini Spariva in nome della musica Perché poi molti di noi Che eravamo lì a vedere quel concerto Non eravamo mai stati in Giamaica Magari non amavamo particolarmente La musica reggae Ma eravamo lì per ribadire Che forse quel sogno Che avevamo coltivato Cioè l'idea di aggregazione Di stare insieme Di bellezza Innaffiato nel modo giusto Poteva dare i frutti belli Ci sono delle band Che live Ancora veramente Fanno la differenza Nonostante tanti anni Nonostante magari Stiano un po' insieme Più per mestiere Che altro Penso agli U2 No? Io non riesco a capire A me piacciono sempre tanto Quindi non so Se mi piacciono sempre tanto Perché sono fan E quindi mi va bene tutto O se invece sono veramente Ancora così forti Hai detto una cosa giustissima Nel senso che esiste Un minimo sindacale Al di sotto Del quale intendo come qualità Non si può scendere Ma noi diventiamo Quasi azionisti Emotivi Di un percorso No? Quindi non sono Nemmeno io in grado Di capire Le ultime volte sono rimasto Un po' deluso Rispetto ai primissimi Poi essendo io più vecchio di te Li ho visti proprio Anche agli inizi Ipergem Credo che siano ancora Uno di quei gruppi Che riesce in qualche modo A rigenerarsi ogni volta Sul palco Belli Belli live Ipergem È vero Bellissimi Quando ero ragazzino Impazzivo per i Guns and Roses Invece E andai a vedere Tutti i concerti italiani Che fecero negli stadi Torino Moda Esatto E penso che Anche oggi Quando vado a rivedere Quei famosi VHS Adesso sono stati ovviamente Convertiti i file Però il concerto a Tokyo Per esempio Vedo una grande rock band Cioè Se quando ero ragazzino C'era l'incertezza Ma questi dureranno poco Invece vedo una grande rock band Condividi? Sì sì assolutamente Poi guarda Io non ho mai desiderato Essere una rock star Ho sempre desiderato Essere più personaggio Di una canzone Delle rock star Un personaggio Delle canzoni di Spree Sino Questo o quell'altro Però Io desideravo essere Exor Rose Quando lui è arrivato Perché per me Incarnava Tutto quello Che una persona Poteva essere La dannazione La bellezza La follia Che poi in qualche modo Gli ha divorati Tutto questo All'inizio È stato più l'impatto Poi Analizzando Facendo proprio Quasi l'analisi logica Delle loro canzoni Delle loro esibizioni Nei live Capisci che erano E sono davvero Un grande gruppo Pazzesco Perché vive poi Su quest'asse splendido Che è quello storico Della chitarra E della voce Sì Slash E Axel Rose Ma è facile parlare Dei grandi nomi Tu qua ne hai tanti Da Springsteen A Pink Floyd A Patti Smith Che hai detto prima E va bene Sono sempre quelli Che ricorderemo E sarà bello Fare delle cene Parlando di loro Chi sono i prossimi Grandi nomi Abbiamo detto Muse per esempio Guarda Io sono molto curioso Di capire l'evoluzione Di Greta von Flit Perché chi li ha visti Dal vivo È rimasto molto stupito Perché ha detto Guarda sono andato Con un po' di scetticismo Troppo figli Dei Led Zeppelin Però hanno visto Invece Che c'è una potenza sotto E credo che questo sia Il percorso giusto Cioè a me non interessa Sapere se oggi Uno che stare sul palco Vale 10 Preferisco uno che vale 6 Che vale 7 Ma immaginare Che domani Possa arrivare a 10 Loro quando si libereranno Da questo nome tutelare Da questa presenza fortissima Anche da un punto di vista Vocale Non solo da un punto di vista Compositiva Potrebbero davvero Dare qualcosa Poi il mondo È anche pieno Il mondo del rock Di storie Che si sono bruciate Troppo velocemente Penso a Jeff Buckley Nel libro c'è La storia Del concerto Di Correggio E dell'intervista Perché Non racconto soltanto I concerti Ma ogni concerto È un punto di partenza Per raccontare storie Fantasmi Aneddoti Incontri Interviste Con gli artisti Chissà che cosa Avrebbe potuto fare Ma dico Nel bene e nel male Perché un disco È un disco Che ha cambiato la storia Ma poi Devi anche Riuscire a replicarti A riuscire Devi riuscire a mantenere Quel livello Adesso poi Non storie breve Come quella di Buckley Però pensandoci bene I Beatles Hanno una storia breve I Nirvana Hanno una storia breve Sono tanti gli artisti Per i quali Dici Chissà Cosa farebbero oggi Oggi In un mondo difficile Dove Accettare compromessi Diventa quasi obbligatorio Però dove ti puoi illudere Che i grandi nomi Possano in qualche modo Avere il colpo d'ala Che ti fa cambiare La giornata Sì sì Oppure sopravvivere A tutte le mode Le tendenze La musica liquida Fisica I grandi nomi Ti sembrano Al di sopra Di tutte le logiche Amici vi consiglio Il libro di Massimo Cotto Uscito dieci giorni fa Se vi piace Leggere di musica Non solo ascoltarla E poi magari Parlarne con gli amici È sicuramente L'ennesimo libro di Massimo Molto utile per questo Grazie Grazie a te Ti amo quasi fisicamente Ciao Massimo Ciao